Io vado avanti per la mia strada, insomma alla fine l'ho detto mille volte, l'avevo annunciato, credo che sia giusto, in una politica che è fatta di grandi dichiarazioni in campagna elettorale e poi la gente, poi i politici non hanno il coraggio di fare le cose, io il coraggio ce l'ho, quindi l'avevo dichiarato testualmente, quindi non c'è nessuna possibilità disposta a parlarci, ma non c'è nessuna possibilità che io cambierei su questa. Quindi è disposta a incontrare i consigli? Sì, incontrare i consigli, ma ci mancherebbe altro, oggi avevo altre cose, ma non nell'ottica di, se il tema è cercare di farmi capire l'idea, direi che non c'è alcuna possibilità.